Noi di Vriaggio 2018, saluti benvenuti a Noasa in Curso, inghizzati con la Sagronaca, vado a Domu Noasa, un mese a Pustisi del guasto, l'Ompiri Sarrangio, vostro sistema telematico del poliambulatorio di Via Magenta, che vi agguasto a Remonau su dei su noi, di Genargio Bassau, a Pustisi del mese a segnalazioni, si mandare a Sadele, come del arti dei funzionari su di questa struttura, una struttura di importo su centro, dato da diventi spreglievo, vaccinazione, guardia medica e veterinario comunale, in modo finalmente saranno l'Ompiri Sarrangio, del arti di Sassl, la comunicazione, che appustisi delle sinalazioni, si inedisi passare a istenicare della telecom, anti-agattare un guasto, viene un guasto umano a Sarrezza, il problema è degavoso, efflusso dei dati, degradoso. Carbonia, un passo di importo, vogliono per toccare la digitalizzazione e la informatizzazione del suomone di Carbonia, martedì treggi del viaggio, pieni di ai 10 mesi di Mangiano, in questa sala voli funzionali del suomone di Carbonia, su sindico Massida, su assessori in manca e su referenti del sistema Tresi SRL, Andrea Zonca, in una conferenza di imprenta, anta presentare la specifica di questo servizio. No, si tratta del suo fascicolo elettronico del suo cittadino, che era premito ai residenti di Carbonia, di tenne già in domo i servizi su donna uso delle amministrazioni comunali. Aici, grazie a uno computer, uno tablet o uno matessi smartphone, sono dappor i denni i servizi su gombira uso del suo comune, informo su anagrafico, su protocollo sportello demografico, situazioni tributarie, e in suo tempo su Benidori, sono dappor i vagai online, vince se istributti, sa comente, tari, tasi e imu, sa diapustisi dessa conferenza di imprenta, a desiposti, sa disposizione dei cittadini, sui moduli, su de compilai povori brintai in suo servizio online. Carbonia, a ranghizzai su guindigi de vriaggio a isnoi de Merì, in suo cineteatro centrale di Carbonia, sedizioni numerusesi de sa rassigna, identità in transito, il cinema, a teatro, un uvim po' sintrara, esti easy, un viaggio facile facile, de Andrea Magnani, di Auroverri, sa rassigna, una comedia originale, che ha fatto in suo tempo su fuedai, critica e pubblico. Sa rassigna, denni il suo attrocino delle amministrazioni comunali, e della sessorava sa cultura del suo comune di Carbonia, esti apparigiara e promuovia del suo centro servizio culturali di Carbonia, e della società umanitaria, che sa giuro di questa cooperativa Mela, questa unione dei circoli cinematografici su dei sarchi, del suo circolo Arci la Gabbianella Fortunata, e del suo circolo FIC la miniera di Carbonia, che andrà in antesi a Remonaus, poi altri due su domingos, sempre ai sessi de Merì, e sa giovia, ai snoi di Merì, viena a subrimmo de marzo. Masa in avviso ai scassadorisi, consegna del suo volo venatorio, aintro del subrimmo de marzo, raddeppi d'orrai, a suo comune, compilavano in tutte le parti, e fincese a Remonaus, sissa trascrizioni, non esti completa, c'è resti sa sanzioni amministrativa. Carbonia, costumeria ai squattre e meso, in sa sei de sa lute, c'è resti sa conferenza, corsica, identità sospesa, a incuru de su professori, Carlo Di Bella. Calasera, costumericedu ai setti, sa amministrazioni comunali, a rappresentai sa cittadinanza, su sistema nou de sa rigota, differenziera de sa rifugio. Custa vi era assoluti in mano, a bozato su grazia, sa de nos essi segui, o che si va e pregiè, si dò rauzo a Tobia Igrasi. Adios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada